Casuale come pochi sto coso. Eh sì il ferro si. Boing. Vane sulla luna. Boing. A proposito. Boing. Perché? Boing. 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 Vai vai vai. Mi sto perdendo la battaglia. Sì è finita la battaglia Tino. Tre giorni di breathing non ho dato neanche. Che c'ho di cose pesanti. Tre giorni di breathing non ho dato neanche a marzo. Megazord. Cioè tu hai pagato per sta cacata. Bellissimo. Tu veramente hai pagato per questa cacata. No dai ma quanto è magro fa cacare è piccolissimo. Ma tu veramente hai pagato per sta cacata. No 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 no. No Franco clippa sta cacata per favore. Ma è bruttissimo raga non ci voglio credere. Madonna nel dio. Reggio. Amore faccio il trasporto. Ma che becca. Ma che situazione è. Ma non si può vedere sta scena in una cave. Scusate. Eh. Fa perché. Quando le game le fai bene. È ferì. È ferì. Un uomo ferito. È l'ambulanza delle cave. È l'ambulanza delle cave. Lasciò davanti a sto paralosa. Ma allora mo loro in acqua. Se riesco a salire su sto trice. Ok. Dove è uomo. Arriva. Troppo. Eh. Quanti colpi gli hai dato? Uno. Ucciso? Quanto colpi gli hai fatto con un colpo? Eh. Troppo. Guardaci. Guardaci. Faccio malone di friend. Dimmi quando possiamo dire. vai parti parti non ho visto le montagne russe scusate e poi te che teniamo su io veramente dimmi che rimane così non riesco a uscire sta clippando vale sta talmente ridendo che ne clippa beh dai nel senso vabbè cosa vuoi che sia ma dove va si le nuove a voi adesso col dedico lo sto facendo pietra subacquea faccio prima no che è successo è affogato no è affogato non ho visto la vita mai cosa è successo codio mori ma hai volato a me sbola mi io direi di svolarmi non riesco se stai fermo io io mi sbolerei ecco no niente porco dio simon rame perchè quella cosa dimmi c'è avevo un cazzo che esce dalla spiaggia a betta così morte morte o qualcuno che venga in base da noi il boss poli elettrico no ok è brutto ok è molto bello e ancora cipa si è arrivato oddio 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 o raga raga no scusami le fiamme ho bruciato mi hai rotto l'armatura sono fortissimo mi è morto l'argent unico con me mi abbia ha presato anche il tila sono morti tutti fra un disastro ha fatto un disastro è successo ma c'è entrare dai dai a me fa entrare ma come non ti fa entrare ma che problemi avete stasera l'altra che non crepoda ma cosa stai giocando la cavallina scusate stai giocando la cavallina sale uno scende l'altro scende l'altro sale l'altro ma che cazzo è ma cos'è stasera scusate questo alcoli adesso viene vicino io sono sicuro guarda guarda vado lui guarda se mi prende se mi prende ecco dio ecco dio lo sapevo guarda lo sapevo lo sapevo niente barioni tutto 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 via che vale cosa sta succedendo fermati drago fermati dove andare solo tamare un brotto ma vabbè vabbè drago se ne va per i cazzi suoi simo chido dove tamare solo un brotto ma di che è stato mio che cazzo di domande fai eh no dovevi riprenderlo cosa? nooo pul stavo volando c'è david ma l'hai visto? eroi la festa? che bastardi rampinati 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 avvicinati avvicinati melli vabbè che scendo non puoi venire spero che perdi anche sto personaggio spero che tu li perdi a tutti da ora in poi lo voglio? no ancora? ma perchè è di là è di là raptor non è di qua ma è qua no è di là non è lì è qua io lo vedo qua adesso si infatti guarda che me lo stacco e grazie a cazzo ma c'ero qua e lo puntavo ma non è vero comunque lo faceva franco clipa per favore così facciamo vedere a questa donna che poi a parte quello guarda quanto sono hanno lei potrà cittano questo è arrivato Mardok non è Mardok non è Mardok non è Mardok è arrivato Mardok non è Mardok chi l'ha attivato la c***a no merda pronto? ah pulì me l'ho dato t'ha visto t'ha visto ok non si vola via non è Mardok non è Mardok non è Mardok che vale che vale che vale che vale che è un dottardo corri corri oh che oddio oh no oh che oddio ah ah fuck I think fuses went off I have a flashlight in the trunk of my car I s*** oh da mi manca adesso lo sai tutto ah porco di oh porco di madonna che spavento ho finito sputtato la sigaretta porco dio madonna corri 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 oh che oddio come donno cos'è dov'è no corri ah si è è è è è è è è l'ora l'ora ha fatto la foto ho seduto fra pro che oggi quandoario mi chiodi porco di .. ha � se c male o tipo ok andare giù in cantina che si can toltò il cane. Eh, ma Dio cane! Apri apri apri! Aia! Aia! Dio! 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 Dio cozzo! Porco Dio! Ma dove sei? Della cucina! C'è qualcuno dentro in cucina! Mi sta parlando! Corri, corri, corri! Oh mio Dio! Simo, c'hai uno dietro! Simo! Simo se l'hai attaccato la schiena! Fammi la foto! Aspetta! Vieni qua! Girati! Fermo! Oh mio Dio! Allora, non mi giro! Non mi giro! Erco Dio! Orco Dio! Orco Dio! No, non mi giro! No, non mi giro! No, non mi giro! Orco Dio! Ah sì! No, io credo la live! Eeeeehhh... Guarda, letti lì! No, ho la pelle d'oca e io che sto guardandola live! Oh Secondo me non potevi prenderla Ma faffanculo Cazzo di corpo Che puttana Sì, bravo Rame No, andiamo avanti così Avanti, vai avanti così Andiamo avanti così Sì, ce l'ho, ce l'ho Coddio, non mollo, non mollo Siamo tutte conteste Non mollo, non mollo Non ci sia Non mollo No, dai Salute sulla scala Fermi Guarda Ma cos'è Calci in culo Dai Ho capito Come vieni più giù Su No No Questa è un inquadulo Vediamo un po' Vabbè, vai easy Allora, 3, 2, 1, via No Fermi Sì, no, vabbè Pulla, pulla No Ti si ha grappato all'indietro No Ma perché? Porco, Dio Ora, 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 ora Era tardi Era tardi No Era tardi Era troppo tardi No, no 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 Era tardi Era, era tardi Perché siamo andati così Ma no, ma io c'ero Su Ma 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 Grazie a tutti.